Sono passati più di 30 anni dall'apertura del primo salone MixArt e ora MixArt è un team più che affermato non solo in Italia. Dove vedi il tuo team tra dieci anni? Sì, MixArt si è affermato non solo in Italia e anche all'estero grazie al metodo, grazie allo studio e all'allavorazione di questo nostro metodo che ci proietta nel futuro in una maniera entusiasmante. Rhapsody, la collezione protagonista del vostro show, gioca con luce e ombre. Quali elementi hanno influenzato la creazione dei look che abbiamo visto oggi in pedana? Rhapsody, lo dice la parola stessa, è un insieme di melodie quindi abbiamo voluto cercare di far emergere queste melodie con tanta armonia e tanta sofficità che comunque rende il tutto armonioso e molto Rhapsody.